Guarda che ben bello quel Van Gogh. Ah, senti, anche se è un falso, tienilo. È fatto da un uomo di talento. Dunque, lei, signora, è l'amica del nostro Bubi. La mia mamma è amica. Oh, guarda, sarà anzianetta la sua mamma. Ah, ma noi siamo per lasciare tutta la libertà che vogliono ai ragazzi. Io e mia nuora siamo per la metempsicosi, dopo che siamo state in India l'anno scorso con la società dei giardini. Io sono socia da... ...tent'anni. E non avevo mai approfittato di viaggi collettivi. Viaggiano con una signorilità unica. Attenta. Cosa c'è, Martellino? Ah, Stella. Scusi, sa. Il cane. Pensi che questa bestiava è sicuro che è una incarnazione. La bestia per la reincarnazione è la più bella. Io spero che la prossima volta mi capiti proprio quella lì. Un animale domestico, si capisce. Perché mi dispiacerebbe troppo di avere degli istinti crudeli. Ne ho viste tante in questa vita di brutte cose. Mamma! Però... Lascia stare quella cosa, Edison! Edison? È mio figlio, sa. Li chiama tutti così per via degli elettrodomestici. L'è una sagoma, sa mio figlio. Ha gratitudine per gli inventori che gli competono. Edison, allora? Ho detto che non voglio. La ragazza ma, signora contessa. Su, su, vai con Ivano. Su, su, su. Con Ivano, ho detto. Su. Hai visto come lo segue, mamma? Il nage a me e me le domestiche. Questa bestia non ama la servitù. E ha invece un vero trasporto per Ivano. Che è Veneto. Appunto, come noi pensiamo. Pensiamo una persona molto importante di là. che è il cagnolino. Sa, Venezia, Padova, tutti i posti di signori. C'è mai stata in India lei, signore? Ah, no, ma ho letto molto, naturalmente. Ah, ma bisogna andarci, Stella. Bisogna andarci sul posto. Lei si mette subito nelle mani del suo yogi. che qui credono che i yogi sia solo una ginnastica. Ma no, mamma. Ormai tutti sanno tutto. Come ci si veste stasera? Come si vuole, mamma. Vagamente seguendo il tema. Ma tu non devi preoccuparti. È il compiano di Ugone, mio figlio. Io oramai me ne sto sempre coi miei pantaloni. Una comodità, cara. Ma una comodità. Quella Patrizia che villano, vedrai che non viene. Non viene, infatti. Mi serviva il numero preciso degli ospiti. Ah, ma fortunatamente sta finendo con quella persona. Sgradevole, devo dire. Oh, e Ugo. Io ti ringrazio. Non è tardi.